oggi niente video perché siamo andati alla spa poi vi diciamo com'è la spa adesso invece stiamo andando alla pizzeria perché oggi giornata di navigazione domani arriviamo a civita vecchia quindi adesso andiamo alla pizzeria perché vogliamo provare anche la pizza non l'abbiamo ancora provata quindi stasera cena in pizzeria pizza trentina con miele taleggio spec e il tuo quattro formaggi con sopra la mozzarella fatta da loro a bordo stasera le proviamo tutte tutte tu fai il video tu io mangio frangipane questo è frangipane musso al cioccolato musso al cioccolato cioccolato bianco buongiorno la vecchia nostra nave quella piena di french toast anche guarda che c'erano l'isdraio da dove eravamo noi qui noi invece abbiamo le seggio le scrause le scaruse guarda questa sera noi abbiamo il french toast questo mattino oh però che bel tempino a roma eh siamo oggi vita vecchia e con questa nave abbiamo fatto la seconda crociera questa è la terza oltre le colonne d'ercole un po' di terremotino ci sono già i gabbiani pronti a mangiare ok oggi abbiamo l'escursione a roma in libertà cioè ci piantano a roma e ci vengono a prendere comunque questo è il terremoto che succede tutte le mattine quando arriviamo al porto terremoto già dobbiamo prendere l'ombrello eh dobbiamo prendere l'ombrello giù ok dicevo che c'è un po' di traffico stamattina civita vecchia cos'è che è? la hammerall princess e là è la ah no è la msc giusto? e là in fondo c'è un'altra e qua c'è la tirrenia oh no 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 a posto c'è un po' di gente oggi un po' di traffichino oh riprendiamo la nave giusta dopo eh? si guardi bella zi siamo a roma e siamo a roma per i gazzi nostri in cesta guida cioè ci ha mollato da qualche parte e ci abbiamo al punto di ritrovo comunque siamo a roma famo un giro per roma in libertà marcia tontan funziona ancora ma di gente eh? perché oggi è mercoledì mannaggia mannaggissima è una cosa filante siamo riusciti a passare il primo pezzo il secondo magari lasciamo anche perdere abbiamo troppo poco tempo per imbarcarci in una coda piazza del popolo è appena venuta giù l'acqua noi eravamo in metro però siamo super attrezzati adesso andiamo a farci un giro in via del corso ma noi siamo arrivati una bomba d'acqua si noi siamo arrivati a piazza di Spagna a sono ho a a a a a a a a Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.